Torna Mattina Live dal lunedì al venerdì su Teleguam. Gli approfondimenti, le rubriche e tante novità. Tutti gli aspetti della sanità. Per violazione del decoro architettonico fatta da un solo condomio. L'assegno unico va a sostituire l'assegno nucleo familiare. Mattina Live tutti i giorni con legamenti da tutte le province. A Mattina Live, come sempre, anche la rubrica 16 Live. Gli approfondimenti con gli esperti che risponderanno alle vostre domande su questioni legali di CAF, patronato, ambiente, animali, condomini. Vi aspetto, come sempre, tutte le mattine su Teleguam per accendere la vostra giornata.